Eccomi qua, fratellone. Dove sei? Che ho bisogno d'aiuto. Eccomi, ciao. Meno male che sei qui, Reggie. Mi salva, un secondo. Hai detto che hai perso tutti i poteri? Sì, ho perso tutti i poteri. Ho perso il fumo, ho perso il neo nel video, non l'ho nemmeno presa. Persino splendido. È una notizia grandiosa. Una notizia grandiosa? Ho mille di OP che vogliono farmi la pelle e io non ho niente per fermarli. Sì, certo. No, aspetta. Ok, non mi importa se dovrò lanciare le pietre. Io affronterò Augustin. Ma dato che vorrei evitare uno. Scenario alla Davide e Golia. Ho davvero bisogno di te. Ok, va bene. A quanto pare hai già preso una decisione, quindi a cosa ti servo? Beh, ho qualche possibilità di riavere indietro i miei poteri. Sarà con uno dei nuclei trasmettitori. Ma certo. Ma? Cazzo, Reggie. Non posso rompere quel coso senza poteri, ok? Quindi... In realtà non mi servi tu. La tua pistola. No. No, 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 non ti darò la pistola. Questione chiusa. Devi... Cazzo. Ma forse posso prestarti... un paio di proiettili. Grazie, fratello. Vediamo, qual è il nostro primo potere? Ok, l'invisibilità. So già che mi pentirò della domanda, ma... Cosa hai ottenuto? Forse ti conviene stare indietro. L1 per diventare invisibile. Ah, fortuna che mi sono allontanato. Beh, forse il prossimo avrà, che so, proiettili o una specie di super mazzata. Di chi è che ti dico? Super mazzata. Ah, no. Io vengo con te. No, 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 col cavolo. Ci penso io. Senti, a meno che tu non vogli aprire il nucleo con l'invisibilità, hai ancora bisogno di me. E della tua pistola. D'accordo, dai, ti seguo. Basta che ci muoviamo, Reggie. Se proprio dovevi restare con un potere solo, l'invisibilità non è male. È vero. Esatto. Sognavo di diventare invisibile da quando sono entrato nella pubertà. Ok, meglio non approfondire. Dov'è il prossimo? Eccolo lì. Dai, su, aprimelo per favore. Eccolo. Ok, Reggie. Voglio che tu lo apra in nome della legge. Più, più. Ah, guarda che non spara se tu sei nel mezzo. Piccoli dettagli carini. Vediamo. Ancora niente di sparo, secondo me. Ah no, abbiamo, sì, le mazzate. Allora. Onesto. Il potere del video è bellissimo, in cattivo, perché hai l'artiglio. Ma anche la spada angelica non è male. Spero, perché il D.O.P. è diretto proprio verso di noi. Cristo, ma che figata è? Helsin. Ehi, ho detto mettiti al riparo! Invisibile. Sì, lo penso e lo creo davvero. Che bello. Questa stronzata qua. No, invisibile. Ecco fatto. E giù anche tu. Di nuovo. Invisibile. Oh, fermo lì. Ecco fatto. Ancora uno. Vieni, vieni, vieni. Preso. Ho bisogno di un po' di video. Reggie, stai bene? Sì, a posto. Troviamo il prossimo nucleo trasmettitore. Mi dispiace, ma è pericoloso. Non puoi venire, pivello. Prosegui senza reggi. Che stronzo. Ci sta ancora seguendo, comunque. Ok, il prossimo trasmettitore... Dov'è? Ehi, ti ricordi di me? Sono quello che sa dov'è il prossimo trasmettitore. Scusa, ti metto in attesa. Eugene, sono Delsin. Senti, i tuoi amici avranno fatto un minimo di ricognizione aerea nei dintorni, no? Sì. Devi aiutarmi a trovare una cosa. Sai quelle casse luminose che il DUP ha disseminato per la città? Certo, aspetta. Ce n'è una non lontano da te. Grazie. Ah, in strada ho visto due presunti bioterroristi tormentati da un gruppo di assalitori. Che ne dici? Io ho la mia spada nuova. Potremmo aiutarmi. Quella spada è una figata, eh? Eh, è incredibile. Ti interessa? Lascia stare. Ho degli angeli di livello 11 che mi aspettano nella valle della morte. Mi pare un appuntamento irrinunciabile. Ebbè, certo. Io però devo assorbire un po' di video, eh. Eccolo qua. Un po' incasinato da prendere, ma eccolo qui. Posso già potenziare qualcosa? Assorbire il video. Velo dell'invisibilità. Facciamo questo qui per adesso, visto che non abbiamo nessun potenziamento utile. Dai. Ed eccoci qui. Aiutiamo sto tizio. E via. È stato aggredito e salvato a ottenere il karma positivo. Eh beh. Visto che sono qui posso assorbirlo. Ma come è ucciso? Ma poverino, l'avevo appena salvato. Ma porca. Eh, vabbè. Ehi, grazie. Morto. Proiettili? No. Volo. Vabbè. Buttalo via. Poveraccio. Ehi, grazie di avermi salvato da quelli che me ne stavano per stare. Morto. Vieni qui. Allora, la spada è figa. Perché è figa. Però, mannaia, l'artiglio è più veloce. Dove sei? Di sotto. Ecco dove. Eugene, vorrei lasciarti da solo con i tuoi demoni, ma i cecchini del DUPI mi hanno teso un'imboscata. Devi venire a darmi una mano. No, io resto qui, ma posso inviarti degli altri. Beh, buttali via, insomma. Io volevo chiedere, la ragazza qui sta sull'autobus, sta bene? Sta benissimo, ma è fuori dalla tua portata. Fantastico. Ah, senti. Lei è superiore ai tuoi standard. È come paragonare la merda con la modella. Non so se mi spiego. Oh. Ah, il nizio. Quello che ha causato l'incidente. Se ne è cavata. Hank. Ehm. Hank. Agostin l'ha preso. E l'ha ucciso. Davvero? Wow. Mmm. Ne sei sicuro? Non preoccuparmi. Mi occuperò di Agostin molto presto. Eh, speriamo, dai. Mi serviva una squadriglia di alleati volanti. Ed ecco qui gli angeli. A posto. Vediamo, posso sparire, affettare e correre. Non è proprio il massimo. Ah, non proprio angeli, dai. Vabbè. Non li buttiamo via dove vai. Kabum. Ah. Speravo di romperlo subito. E invece no. Proiettili? La spada proiettile? Sì. Quello è il R1, questo. Che non è neanche male. Questo attacco qua è figo. Allora elicottero. Allora viene il bello. Grande. Più, più, più. Porca troia. Che tappammi, pum, pum. Ho bisogno di altro video io, eh. Aspetta. Ecco qua. Pensavo di aver visto di tutto, ma... Stupendo! Ipi, pi, pi. Andato. Meno male. Ho bisogno di altro video. Eugene, non vorrei sembrarti un ingrato, ma... La prossima volta potresti mandare demoni meno vigliacchi. Ti servissero solo degli sentinelli. Senti, non puoi pararmi, mezzo culo. Noi Conduit dobbiamo difenderci l'un l'altro. Ok, la prossima volta. Ne ho trovato un altro. Ok, non è lontano, grazie. Grazie, Eugene, di fare il lavoro a metà, però... Senti, c'è una squadra del TUP diretta al tuo obiettivo. Ma non temere, al tuo arrivo troverai qualcuno a darti una mano. Perfetto. Permette, i tuoi ragazzi hanno tirato fuori le palle. Di loro di portare quello che hanno, mi servirà una mano. Oh, la madonna. La cattiveria. Ed eccoci qua. Vai subito. Proiettili, per favore, ho bisogno di sparare da lontano. Capium. Ed è... Vediamo. Appaiono subito i nemici. Ecco qua, vieni. Abbattuto. Il colpo... Questo qua... del video è fighissimo perché... è straveloce. Ecco, fatto. Vieni qui. Dov'è? Non lo vedo. Eh, che cavolo, grazie Angeli. Perché brutte notizie? Che novità. Perché rischiare se non sappiamo neanche cosa otterrai? Non farmi le solite paranoie alla Eugene, ok? Se usiamo il cervello non c'è niente che due stalloni conduite e un esercito di Angeli e demoni non possano fare. Che quasi quasi sfrutterei adesso per liberarmi di questa zona. Siamo appena arrivò là. Li sfrutterei giusto giusto, gli stalloni Angeli, sai? Ma mi sa che sono spariti. Ecco fatto. E un altro centro di comando. È andato. Fuori dalle balle. Pum! Tra l'altro tutti quei mitra. Che poi in realtà mi sa che non sono minigun quelli. Erano tipo congegni e basta. Ripulita la zona? Certo che l'abbiamo ripulita. Ed ecco di nuovo Angeli e demoni. Grazie. Ecco il piano, io provo ad aggirarli senza farmi notare. Andiamo Eugene, puoi fare di meglio. Caro il mio stallone conduit. Caro il mio stallone conduit. Ok gente, vinciamone una per il giocatore. E due. Addio al tizio. Ecco fatto. Morto? Spero di sì. Uh, calmo, calmo. Assorbi. Kaboom! Eccoci qua. Colpo finale? Colpo finale. Bello il colpo finale del video. Spero che mi sia valsa la pena. Hai voglia. Eh, sì. L'attacco è bellissimo con tutto sto stormo di angeli. L'inferno è Delsin! L'inferno è Delsin. Quanto te la meni, Delsin. Quanto te la meni. Aia! Allora. Uno. Due. E? Dov'è l'ultimo? È l'ideale alle feste. Tre. Ce n'è ancora uno da qualche parte. Vieni, 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 vieni. No! L'avete ucciso. Eh, vabbè. Obiettivo della missione qual è ancora? Finito? E c'è ragione. E c'è ragione. Che bello il demone comunque. mi hai salvato, gridava... Eugino, è il migliore! Come sapeva il mio nome? Che cavolo ne so. Puoi chiederlo di persona al prossimo? Beh, immagino che amministrare qualche persona in più sia solo un bene. Così mi piace. Fammi sapere quando sei pronto. Bravo Eugino. Primo, è un sollievo sentire che sei ancora vivo. E secondo? Ma... Aspetta di vedermi all'opera! Ho trovato spade, ho trovato missili e demoni che sciamano dal cielo. Già, sembra molto pericoloso e stupido. Ma anche abbastanza catturato. Grazie! Non vedo l'ora di scoprire cosa ne pensi, Augustine. Che già lo conosce questo potere? Aveva già catturato Eugin, voglio dire. 12 potenziamenti, eh? Vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo solo quattro frammenti. Assorbimento rapido? Direi di sì. E le lame ci servono altri due frammenti. Per il flusso... Consumo in meno, certo. Ecco qua. C'è ancora magari un frammento da qualche parte che posso... Rubarmi? Stavo monitorando i loro segnali e penso che gli aculani abbiano in mente qualcosa di grosso. Ehi, sì, ci sto. Grazie. Incontriamoci nel mio dominio e pensiamo a un piano. Nel mio dominio, certo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.